Parte Vallintavola, 1 e 2 ottobre, ritorna a questa manifestazione, l'anno scorso un esito più che positivo e quest'anno si prosegue, si prosegue con alcuni elementi in più, anche di presenze interessanti, di espositori, produttori del territorio. È un evento che mette l'accento su quella che è l'eccellenza delle nostre valli, con uno sguardo ampio rispetto a quello che è un recupero della biodiversità. La biodiversità è diventata sinonimo ed è sinonimo di qualità anche per i nostri territori. Molta ricerca e molta passione tra gli espositori che verranno qui e ci faranno vedere l'esito dei loro percorsi personali e anche produttivi. Qualcuno da appassionato obbista si è trasformato in piccolo imprenditore. Si tratta di forme di resilienza e anche di rinnovamento rispetto a quello che è un approccio nei confronti delle produzioni di nicchia e del recupero della tradizione. Si parla tanto di tradizione enogastronomica, di cultura del territorio, poi le cose magari rimangono un po' inespresse, ma l'intavola invece fa vedere quello che sta succedendo nella realtà. E quindi è soprattutto un luogo di incontri e di scambio di buone pratiche. Ci saranno dei momenti di approfondimento più istituzionali, ma soprattutto tante persone che faranno vedere quello che fanno tutti i giorni nelle loro campagne, anche conforme di ritorno al territorio, cambi di vita, storie interessanti.